Cosa c'entra Fabrizio Corona con Fedez? L'ex re dei paparazzi ha fatto sapere di essere in buoni rapporti con il rapper, tanto da sentirlo periodicamente. Corona ha lanciato la notizia che Fedez e Jovino giungessero a un accordo pecuniario molto prima che ciò avvenisse, sebbene non fosse difficile immaginarlo. Adesso invece ha diffuso online un video dove Fedez abbraccia e bacia la sua nuova fidanzata. Fedez è stato da poco paparazzato al Gran Premio di Monaco insieme a Grand Sautier, una giovanissima modella francese. Diversi i video che circolano in rete dove Fedez prende per mano la sua nuova compagna. Adesso Corona pubblica nel suo portale un video esclusivo che vede i due insieme in discoteca abbracciarsi e baciarsi. I malpensanti dicono che Fedez abbia diffuso questa notizia proprio in prossimità della lite con Jovino, per far parlare di altro insomma. Altri invece sostengono che non ci abbia messo troppo a dimenticare la moglie e la sua famiglia. Tu invece cosa ne pensi?